Ciao a tutti ragazzi Bentornati nella tua scuola avventura Questa cosa non dico su Ma dico su Black Angle Oggi ragazzi Giochiamo alle Sky Vlog Sapete già cosa devo fare oggi L'ho scritto su Sul titolo Oggi dobbiamo costruire Dobbiamo costruire La statua di Alex Di Minecraft La skin basica Che ora sto parlando con lui Quindi se faccio così Ora puoi parlare Ciao a tutti Salve Salve Che fai? Eh ma non ti ricordi che noi dobbiamo costruire la torre di Alex? Ah si è vero Eh la due la facciamo qua? Eh la due la facciamo qua? Ragazzi lui Lui Eh il mio amico Ha appena cominciato a giocare a Subblock Mango Allora La facciamo proprio qua Giusto? No Qua Perfetto Quindi io comincio A prendere tutti i materiali Quindi ci bisogna del C'è bisogno del Grigio No questo grigio No Ne prendiamo tanto Poi Ne prendiamo pure Questo E poi Il marrone Ma non c'è possibile C'è soldi Abbo 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 ragazzi Questo video sarà In Questo video sarà In In due parti Quindi E' preso di uno Ed è preso di due E poi è finita così Quindi ora Dobbiamo Cominciare Tu Amico mio Tieni questi blocchi Allora Prima di tutto Dobbiamo fare Dobbiamo Fare Le scarpe Che saranno così Una Due Tre Quattro E Uno Due Tre E Quattro Perfetto Un Due Tre E No Quattro No Tre Oh no Oh no Oh no Non voglio spagare la mia isola Peccato Sarebbe Ovviamente Peccato Faccio così E Opla E Opla Chiediamo così Non posso costruire Ah già è vero Meno Meno d'indicato No Eh ordi L'acquisizione Eccate Te Te l'ho data No Te l'ho data ok ora puoi costruire qui inseriamo di qualche blocchino di cubo no 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 lascia così lascia così facciamo così un petto da si teniamo per testo e stagliamolo 5 un due tre e quattro e cinque un 3 4 e cinque no 1 2 3 4 e 5 1 2 e 3 4 e 5 ragazzi ci vediamo ragazzi ci vediamo quando abbia fatto le scarpe sarà un pochino difficile ok ragazzi i pantaloni li facciamo di così 1 2 no questa è lana no questa è lana mannaggia allora ragazzi io vi invito a lasciare like iscrivervi al mio canale e cliccare la campanellina se non l'avete ancora fatto quindi ora dobbiamo mettere in marroncino 2 3 3 4 4 facciamo 2 3 4 un attimino ok tieni no troppi da me mi dai mi dai uno stack mi dai uno stack ok non si fa buttare devi tenere premuto tieni premuto tieni premuto tieni premuto non stare nell'inventario fuori il fai dell'inventario troppo ok lascia così lascia così perfetto io tanto faccio qua io tanto faccio qua ops aspetta 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 ok quindi cosa vado questa vado a togliere 1 2 3 4 5 togli per favore 1 2 1 2 3 e 4 perfetto ora vado a fare così 1 2 3 4 5 ok 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 si così si si poi è 1 1 2 3 1 2 3 4 perfetto poi poi e ripeto poi così ho qua sbagliato ok 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 così no così 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 perfetto perfetto oppla oppla aspetta un attimino così e così così precisi c'è 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 se ne sono stato serviva boh dammi 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 i blocchi nooo perfetto chiediamo chiediamo così chiediamo perfetto ok ragazzi ragazzi o meglio la faccia è bellissima la faccia è bellissima quando c'è buio però ragazzi il video si concorre qua vi invito a lasciare like e iscrivervi al mio canale questo primo episodio e se concorre qua vi invito cliccate la campanellina se non l'avete ancora fatto ci vediamo in prossima video ciao ciao